Musica Tre spettatori ben ritrovati con l'informazione di Terediogene. Morto stamattina a Cosenza l'ex arcivescovo Monsignor Giuseppe Agostino. La notizia della morte è stata diffusa con un comunicato dalla curia arcivescovile di Crotone Santa Severina. Monsignor Agostino era nato a Reggio Calabria nel 1928. Ordinato presbitero il 15 luglio del 51 fu eletto vescovo di Santa Severina Crotone Cariati il 21 dicembre del 1973. Lasciò Crotone il 6 giugno del 1998 perché nominato arcivescovo di Cosenza Bisignano. Divenne vescovo emerito il 26 febbraio 2005 rimanendo a Cosenza nel seminario arcivescovile da dove ha continuato a svolgere come vescovo emerito il suo ministerio episcopale. Domani 25 marzo alle 15.30 nella cattedrale di Cosenza avranno luogo i funerali. Monsignor Agostino la cui morte è stata comunicata anche dall'arcivescovo metropolita di Cosenza Monsignor Salvatore Nunari è morto nell'ospedale annunziata dove si trovava ricoverato. Era stato anche presidente della conferenza episcopale Calabria e vicepresidente della conferenza episcopale italiana. Stasera nella cappella del seminario arcivescovile di Cosenza alle 21 si terrà una veglia di preghiera. Domani 25 marzo dalle ore 9 sarà allestita in cattedrale la camera ardente sino all'orario fissato per i funerali. Cominciano ad aggiungere i primi attestati di cordoglio una figura che ha lasciato un segno importante nella società crotonese calabrese meridionale nazionale quanto afferma tra l'altro il presidente della provincia di Crotone Stanozzurlo. Esprime il cordoglio personale della giunta consiglio comunale dell'amministrazione comunale della comunità cittadina tutta per la scomparsa di Monsignor Giuseppe Agostino Giavescovo di Crotone. Così tra l'altro scrive il sindaco Peppino Vallone e anche la federazione di Crotone del Partito Democratico esprime condoglio. In un comunicato scrive tra l'altro la sua è stata per la città di Crotone una delle figure più significative in un periodo difficile in cui emergeva nella sua piena gravità il problema occupazionale conseguente alle dismissioni delle fabbriche chimiche. Noi ricordiamo che all'epoca Monsignor Agostino si schierò a fianco dei lavoratori. Ancora ci uniamo al cordoglio di tutti coloro i quali lo hanno conosciuto e apprezzato nella sua vita terrena ed esprimiamo le più sincere condoglianze ai suoi familiari, così Salvatore Luca della segreteria di confartigianato Crotone. Voltiamo pagina, parliamo di sanità locale e a rischio gli spazi del Dipartimento di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Malati e familiari salgono sul piede di guerra. Questo che vedete è il Dipartimento di Salute Mentale, il centro di salute mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. Qui tutti i giorni vengono centinaia di persone a chiedere l'assistenza, sono i malati mentali, che non sono i pazzi ovviamente. È una malattia purtroppo in serio aumento, aumenta tutti i giorni. Questo aumento richiederebbe un aumento delle strutture, un aumento delle strutture a disposizione dei medici e dei malati. Invece c'è un progetto dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone che vorrebbe togliere alcune delle stanze che vengono utilizzate per curare i malati mentali. Qui, ripeto, ogni giorno, tutti i giorni, centinaia di persone. Ripeto, il trend purtroppo è in aumento, vista anche la situazione socio-economica di questa città. È già in aumento in tutto il mondo, ma figuratevi nelle zone dove la situazione economica e sociale è di grande degrado. Lì l'aumento c'è ancora di più. E allora, questi malati, quindi non avendo più spazi, non possono avere più risposte. Ed è per questo che si stanno organizzando, da quello che è stato possibile apprendere, per inscenare una rivolta insieme ai loro familiari. Tra l'altro, chi intende chiudere alcuni, chi intende eliminare alcuni spazi per darli, qualcuno mi dice, alcuni spazi verrebbero dati addirittura al CERT. Quindi immaginatevi malati mentali con drogati. Con drogati, che miscela esplosiva ne verrebbe fuori? Le malati mentali sono persone soprattutto debole. Se c'è qualcuno che magari offre uno spinello, diciamo uno spinello, che cosa ne potrebbe venire fuori? Ecco, i genitori, i familiari, i malati non sono disponibili a correre questo rischio, si stanno organizzando e sono pronti alla rivolta. Sostenuto ovviamente dai medici che ci tengono. Chi fa queste cose, chi vuole ridurre questi spazi, non tiene conto anche del fatto che un malato mentale che va presso una struttura privata, perché se non ci sono gli spazi qui, da qualche parte questi malati devono andarsi a curare, costa all'azienda sanitaria provinciale, quindi a tutti i cittadini di CERT costa 150 euro al giorno. E allora, è una scelta condivisibile? Assolutamente no. Allora, certe malattie devono avere la preminenza su altre. Le malattie mentali sicuramente devono avere la preminenza su altre, anche perché non ci sono immuni per queste malattie e colpisce soprattutto fasce giovanili della popolazione, che vanno garantite, assolutamente garantite. Vorremmo cambiare argomenti, ma purtroppo siamo costretti a tornare sull'emergenza rifiuti, situazione sempre più insostenibile. Entro una settimana si dovrebbe però tornare a respirare, quantomeno temporaneamente. Dovrebbe avere le ore contate l'emergenza rifiuti, almeno questa fase acuta dell'emergenza rifiuti nella città di Crotone. Domenica è stata data la preminenza, l'impianto di Ponticelli è rimasto aperto per raccogliere, per portare i rifiuti, esclusivamente per la città di Crotone. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare un'ordinanza della regione che dà la precedenza per una decina di giorni a Crotone di conferire i rifiuti a Ponticelli. Questo è frutto di un accordo che c'è stato tra il sindaco di Crotone, Peppino Vallone e l'assessore regionale all'ambiente, Franco Pugliano. Si sono incontrati sabato e hanno deciso insieme queste attività, ma non sono le uniche. Infatti si sta verificando di portare i rifiuti a Columbra. Ma quanto spazio c'è a Columbra? Da una ricognizione che è stata fatta, sentendo anche la proprietà di Columbra, al momento c'è una disponibilità, uno spazio di 2.000 tonnellate. 2.000 tonnellate sarebbero sufficienti per raccogliere tutta la spazzatura come questa, a Tufolo. Quella che c'è a Tufolo, soprattutto perché nel centro ce n'è di meno, nel centro città ce n'è di meno, in alcuni punti c'è anche al centro. E allora, soprattutto questa di Tufolo, quindi, nell'arco di una settimana dovremmo vedere la città senza immondizia. Resta il problema invece della risoluzione del problema. Ho parlato con Vallone stamattina, mi ha riferito che, sempre nell'incontro che ha avuto con l'assessore regionale dell'ambiente, è stato ipotizzato l'aumento della capienza di Columbra. circa tre o quattro anni fa la proprietà di Columbra ha presentato un progetto di ampliamento, la commissione via di valutazione di impatto ambientale da quattro anni non si riunisce, quindi in questa settimana dovrebbe essere riaperta questa commissione, dovrebbe riunirsi e autorizzare l'ampliamento della discarica di Columbra e quindi con una postilla, secondo quello che sempre ha riferito Vallone, il sindaco Vallone. La postilla è che la discarica di Columbra verrebbe autorizzata esclusivamente dalla provincia di Crotone, dalla città di Crotone, quindi questa è la postilla. Ma la soluzione definitiva non è nemmeno questa, perché la soluzione non è raccogliere i rifiuti come si trovano ora tal quale e portarli in discarica, è una soluzione che costa molto ai cittadini, perché paghiamo molto se si continua a fare così, invece la soluzione è quella di avviare la differenziata e finalmente avviare il ciclo della differenziata. Come si avvia il ciclo della differenziata? Bisogna risolvere il dualismo che c'è nella provincia di Crotone, ci sono due società, la Crea e la Soacro e tutte e due non possono continuare a fare metà per uno un lavoro fatto anche in maniera non eccellente e quindi bisogna risolvere il problema di dare vita a un'unica società che garantisce la differenziata, poi bisogna educare la gente a farla. A Tufolo dicevamo, siamo a Tufolo dove c'è la situazione più di emergenza. Qui in una via i condomini si sono organizzati, hanno visto che a Tufolo la spazzatura non viene raccolta, a turno nei palazzi hanno deciso di raccogliere la spazzatura e portarla direttamente nei cassonetti del centro per evitare che si creano queste discariche. Quindi è un'iniziativa questa partita da una via di Tufolo che si sta allargando. Agevolazioni alle imprese, stamane conferenza stampa al Comune di Crotone. Tra le prime questioni che Sergio Contarino affronta, tra le prime, non la prima, che Sergio Contarino affronta da assessore al bilancio, c'è anche quella che in verità era stata già messa in cantiere dal suo predecessore, insieme a Franco Barrette che è l'assessore alle attività produttive, quello dei fondi di garanzia, fondi di garanzia per le imprese. Sì, è una prima risposta che l'amministrazione comunale ha voluto dare e quindi diciamo che con oggi diamo il via a questo primo step dei fondi di garanzia. Però siamo già pronti a dare, diciamo, quell'iniziativa ancora più grande, un fondo di garanzia proveniente dalle Rorti di 550 mila euro per dare una risposta ancora più forte alle nostre imprese che in questo momento attraversano un momento di grande... 550 mila euro. 550 è l'altro fondo che in queste settimane partirà. Questo che invece stiamo presentando è il primo fondo che siamo già nella fase operativa, siamo già alla banca. Siamo a 350 mila euro con un moltiplicatore, stiamo arrivando ad avere un fondo di garanzia intorno a 1.500.000, 1.600.000. Non è tanto, però è sicuramente una prima risposta. Ma adesso dobbiamo partire con l'altra risposta, questa di 550 mila euro, ma poi dobbiamo velocizzare il più possibile i pagamenti alle imprese perché le nostre imprese devono avere una corsia preferenziale quando lavorano con il comune. Anche questo è un impegno che come amministrazione abbiamo preso, vogliamo continuare a ribadirlo. Le nostre imprese che lavorano con il comune devono avere la priorità per quanto riguarda i mandati di pagamento. Siete pronti a pagarle? Siamo pronti a pagarle e fino adesso abbiamo sempre pagato. Quindi le nostre... Insomma, non sempre. No, no, le nostre imprese non avanzano niente. Infatti non siamo un ente strutturalmente in debito, altrimenti non avremmo avuto la possibilità di avere questi spazi economici che sia la Regione sia il Ministero delle Finanze ha assegnato al comune di Crotone, l'unico comune ma capoluogo di provincia che ha avuto questi spazi economici. Come abbiamo già accennato con l'assessore al bilancio, parte il fondo di garanzie per le aziende. Sì, e praticamente adesso è arrivata la risposta, no? Abbiamo presentato il bando. Nella presentazione del bando le aziende hanno partecipato. Quanto sono le aziende? Ecco, sono 62 le domande pervenute, di cui 12 sono non ammessibili per mancanza di requisiti di ammessibilità, 6 invece per carenze di documentazione, una è stata poi riterata dopo averla presentata e ben 43 domande sono ammessibili. Quanto possono avere questi? Di queste 43 domande, 23 sono imprese donne, giovani. Ah, benissimo, benissimo. E questa è una grossa... Qual è la somma che possono... La somma era il massimo da 10 mila euro a 50 mila euro, quindi siamo intorno a una media di 40 mila euro, più o meno. La media è 40 mila euro perché c'è un milione e mezzo di euro, no? Abbiamo un milione e mezzo di euro, abbiamo già qua una richiesta di oltre 1.700.000 euro, vedremo come anche soddisfare questa richiesta. Quindi saranno 40 mila euro di media, quando saranno fruibili questi fondi? Allora, a giorni, diciamo, questo elenco delle imprese che sono ammessibili verranno messe sul sito di Crotone Sviluppo e del Comune di Crotone e immediatamente, mi immagino massimo, nella prossima settimana possono andare in banca e discutere con la banca per il finanziamento. Insieme a questo fondo di garanzia c'è un'altra questione che sta per arrivare a conclusione, e quella della zona franco-urbana. Quante domande sono pervenute? Allora, la cosa è questa, che al fondo di garanzia, se aggiungiamo anche alla zona franco-urbana, sono due assi nella manica per le imprese locali che possono fare realmente sviluppo e possono comunque essere fortificate da ciò che arriva. Allora, intanto, c'è un report che hanno consegnato a me in data 17 marzo e al Ministero, siccome le domande si fanno direttamente al Ministero, al Ministero sono pervenute 87 domande per una richiesta di 15 milioni e 925 mila euro. E quanto ci sono? Allora, a disposizione abbiamo 9 milioni di euro. Questo sta a dimostrare la partecipazione delle aziende. Se le cose andassero così, loro possono chiedere massimo 200 mila euro, quindi adesso la media è di 183 mila. Possono essere soddisfatti a tutte le domande, insomma? Assegnate 112 mila euro è troppo 112 mila euro ad aziende, è un po' troppo rispetto a quello che è avvenuto in Aquila, nella città dell'Aquila. Adesso però siamo all'inizio delle domande, bisogna aspettare il 28 di aprile per la chiusura. Però diciamo siamo ad una media già buona e alta, quindi siccome avevano previsto massimo 20 mila euro ad azienda, a scendere da 112 a 20 mila c'è un grande spazio. Quindi diciamo, se saranno altre 100-150 aziende, rientriamo oltre la media. Con 20 mila euro ad azienda. Oltre la media, sì. Speriamo così. E imprese che lavoravano, soprattutto che avevano la sede, all'interno del centro storico. Quindi abbiamo dato priorità a queste imprese. A queste imprese. E per la verità. Vi auguro buon lavoro e vi chiedo la massima serietà e disponibilità con quanti da oggi seguiranno i corsi dell'Antica Croton. Sono certo che i partecipanti avranno modo di apprendere quanto loro insegnerete. Il presidente della provincia di Crotone, San Uzzurro, nella mattinata di oggi ha salutato nella sala, Paolo Borsellino, i docenti che per quattro settimane terranno i corsi professionali in aula collegati al progetto Antica Croton. Ne ricordiamo che i docenti sono 36 e sono stati selezionati tramite un avviso pubblico. Ed ora politica locale. I democratici di Sculco fluttuano tra destra e sinistra. Enzo Sculco, secondo quello che è stato possibile apprendere, secondo quello che ci hanno riferito, sta cercando casa per i democratici. C'è stato un primo tentativo di fare un accordo con Forza Italia, un tentativo che non è riuscito, perché sempre secondo quello che è stato possibile apprendere, da Forza Italia c'è stato un no, un no a livello locale, quindi l'intervento è stato a livello nazionale, i contatti sono stati a livello nazionale. I livelli nazionali hanno chiesto a Giole Santelli, che è il coordinatore regionale, Giole Santelli si è rivolta ai livelli locali, e dai livelli locali è stato detto un no netto. Non avendo trovato disponibilità in Forza Italia, pare che sempre, secondo quello che ci è stato riferito, stia tentando di fare un accordo col Partito Democratico, con Magorno e con i livelli nazionali. L'entratura, questo contatto, pare che lo stia portando avanti Nicola Damo, Nicola Damo, il consigliere regionale di Cosenza, è stato chiesto da parte del segretario regionale Magorno, ai livelli locali, la disponibilità, c'è l'importanza, il ruolo, l'importanza elettorale che ha Scurco, e a livello locale è stato detto, sì, è vero, Scurco, riesce, come dire, a convogliare un certo numero di voti, ma non sono voti del PD, quelli che si perderebbero, invece sono voti del PD, cioè, che voglio dire, che a livello locale sono preoccupati che se con l'entrata di Scurco alcune rappresentanti del PD lascerebbero il partito, rappresentanti che sono di fede PD, e quindi il PD darebbe spazio a persone che non sono, che alla prossima elezione magari potrebbero fare accordi di nuovo col centro-destra. Questa è la questione. È difficile trovare casa, perché è chiaro che Scurco pensa ad un proprio candidato alla figlia, qualcuno dice di sì, da eleggere nel Consiglio regionale della Calabria, perché si restringono le possibilità sempre di più di eleggere rappresentanti nella provincia di Crotone e in quella di Vibo Valenze. Soprattutto se ci saranno le preferenze e se Vibo Valenze e Crotone non verranno garantiti con una postilla a questa legge che devono essere per forza eletti due rappresentanti, uno della maggioranza e uno dell'opposizione. Quindi cerca Caseli, cerca ovviamente all'interno dei partiti maggiori, lì c'è la possibilità di eleggere. Se si presenta da solo, non c'è trip per gatti, ma proprio per nessun gatto. Come sapete, il 26 marzo prossimo in Calabria ci sarà il Premier Matteo Renzi per partecipare a una manifestazione contro l'Andrangheta che si terrà a scalea promossa dal Partito Democratico calabrese. Parteciperà anche una delegazione del PD di Crotone. Ci sarà anche una delegazione di Crotone il 26 di marzo prossimo all'avvenuta di Renzi in Calabria. Si parlerà, è una manifestazione contro la mafia e quindi Crotone partecipa. Enrico Dettori, si porta a voce del PD di Crotone, invita, vuole informare di questa iniziativa. Sì, intanto noi diciamo che è una manifestazione alla quale parteciperà chiaramente il Presidente del Consiglio Renzi ma la cosa importante è che è la prima azione politica posta dal PD a livello regionale e ci fa piacere che il segretario Magorno parli subito di quello che... Quello del regionale. Il segretario regionale centri subito un tema importante come quello del contrasto alla criminalità organizzata senza il quale la Calabria non può andare avanti. Non può... Dove si terrà la manifestazione? A Scalea il 26 quindi mercoledì noi dalle notizie che abbiamo aspetteremo il Presidente Renzi intorno alle 11.11.30 a Scalea chiaramente la Federazione di Crotone per facilitare le operazioni di trasporto degli iscritti e dei simpatizzanti che volessero partecipare mette a disposizione un pullman. Le coordinate indispensabili sono che alle ore 7 noi ci ritroveremo al piazzale antistante il Barnett 1 per intenderci all'inizio voglio dire del riuscito di Crotone e insieme raggiungeremo Scalea. Chiaramente il ritorno è previsto subito dopo la manifestazione noi invitiamo tutti coloro che sono interessati a questo tema che penso interessi tutti a partecipare a partecipare alla manifestazione contro l'Andrangheta. Certamente perché l'Andrangheta si combatte anche standoci in queste manifestazioni e facendo sentire la propria voce discordante rispetto a certi fenomeni. Promossa dal comitato Salviamo la città di Pitagora e la sua provincia si terrà il prossimo sabato 29 marzo a Crotone una manifestazione l'iniziativa è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa. Salviamo la città di Pitagora e la sua provincia e con questo slogan che l'associazione questo comitato che prende questo nome organizza una manifestazione per il prossimo 29 di marzo e allora il signor Antonio Migale è il responsabile dell'associazione il portavoce il portavoce siamo più associazioni abbiamo deciso di come dire costituire questo comitato che nasce dalla voglia proprio di liberi cittadini professionisti e anche associazioni qual è diciamo l'obiettivo di questa iniziativa è quella di portare in piazza la città di Crotone cominciando dalle istituzioni i sindaci i sindacati i parlamentari tutte le persone che svolgono attività politiche e in più anche i cittadini gli imprenditori per come dire segnalare lo stato di disagio di questa città vi limitate solo alla denuncia dello stato di disagio o avete un progetto un percorso anche serio devo dire che dipende poi dalla volontà di ognuno di noi perché questi percorsi non si possono fare da solo noi avvieremo questo percorso insieme ai cittadini e vogliamo praticamente non denunciare non è uno sciopero non è una protesta è un momento di riflessione deve essere una giornata pedagogica capire e come dire analizzare lo stato di invivibilità di Crotone Crotone è una città invivibile una città appiattita e diciamo il tentativo di sensibilizzare le associazioni i cittadini mi ha portato in giro per nelle famiglie ho visto gente molto rassegnata e sfiduciata capire che il lavoro in una città non si produce solamente parlando nei bar e per le strade ma lavorando studiando dando retta anche agli strumenti che ci sono le associazioni di categorie i fondi strutturali che ci sono per poterlo creare il lavoro da parte invece noi praticamente facciamo un appello a chi fa attività politica e capire che quando una persona diventa amministratore non deve difendere gli interessi di bottego gli interessi di partito diventa l'amministratore dei cittadini deve coordinarsi con ho capito allora la manifestazione quando dove parte dove si terrà l'appuntamento è in piazza Pitagora il 29 di marzo alle ore 9 se ci saranno persone sufficienti me lo auguro faremo un corteo e poi faremo degli interventi fino a dove? fino all'extazione dei treni la stazione della ferrovia dello Stato da piazza Pitagora partendo dalla stazione dove lì poi faremo anche le nostre proposte 5 punti abbiamo focalizzato il problema dell'inquinamento il problema dei trasporti le ferrovie dello Stato il problema dell'aeroporto il problema del lavoro il problema della criminalità la collusione tra mafia e politica sono temi su cui i politici devono lavorare si devono coordinare da quel giorno in poi ad operarsi dalla parte invece dei cittadini mi rivolgo ai cittadini comuni agli imprenditori il lavoro va creato bisogna studiare bisogna formarsi e bisogna lavorare bisogna creare le esigenze agli amministratori di cosa abbiamo bisogno per poter anche portare avanti le nostre imprese un viaggio iniziato 8 mesi fa terminerà tra 8 mesi una lunga attraversata attraverso il Mediterraneo per sensibilizzare l'opinione pubblica verso la tutela del mare Nostrum e l'avventura intrapresa da due giovani francesi canoisti partiti il 4 agosto e che sabato a bordo del loro kayak doppio sono approdati a Crotone accolti in mare dei bambini Optimist della Lega Navale di Crotone e da tutto il direttivo il viaggio proseguirà ancora fino a Istanbul congiungendo l'Europa occidentale con quella orientale Luis e Douglas rispettivamente di 23-24 anni questi nomi dei ragazzi francesi hanno intrapreso questa avventura nell'ambito del progetto Mare Nostrum project un'iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione ambientale per porre l'accento sulle problematiche del mar Mediterraneo si è conclusa a rete inviolate la partita Crotone-Bari valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B che si è disputata sabato tra le Muramiche dell'Ezio Scida ma sono già in viaggio gli uomini di Mister Drago in vista dell'incontro infrasettimanale che si terrà domani martedì 25 marzo alle 20.30 incontro valido per la trentunesima giornata decima di ritorno di questo campionato la partita è Lanciano-Crotone che sarà arbitrato da Maresca di Napoli quadruato da Manzini Mondin e Fabri conferenza stampa si terrà domani martedì 25 marzo alle 11 presso la sede del Palazzo Vescovile di Crotone per procedere alla firma congiunta di un protocollo d'intesa tra l'associazione Itinerari costituita dall'Arcidiocesi di Crotone Santa Severina Confindustria Crotone e Confcommercio Crotone soggetti pubblici e privati avente quale comune obiettivo quello di creare una rete attiva responsabile in grado di promuovere e valorizzare itinerari religiosi culturali storici e naturalistici del nostro territorio scusate sempre domani alle 17 nella sede della Lilt di Crotone la Lilt Slow Food Crotone e il Gal terranno una conferenza stampa ed ora vediamo il tempo previsto per domani su Crotone e provincia si prospetta molto nuvoloso visibilità ottima e vento di 17 nodi riscendono le temperature infatti la massima prevista nella città capoluogo è 13 gradi la minima 5 ed ora il bollettino nautico del Marioni o tempo vento da sud ovest forza 6 con locali rinforzi isolati temporali in attenuazione visibilità discreta localmente cattiva in aumento mare molto mosso tendenza vento da nord ovest forza 6 e rovesci bene la nostra informazione è terminata grazie per essere stati con noi arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti